continuiamo il nostro viaggio all'interno del mondo degli insiemi parliamo delle leggi di de morgan prendiamo un insieme chiamiamolo e e prendiamo due suoi sotto insiemi che chiamiamo così con molta fantasia a e b intanto chiamo a primo il complementare di a rispetto ad e lo faccio perché mi è più comodo scrivere a primo piuttosto che scrivere tutta questa cosa qua e ricordiamo che non è nient'altro che la differenza tra e e a e chiamiamo b primo analogamente il complementare di b rispetto ad e che ovviamente è meno b detto questo possiamo scrivere che il complementare dell'intersezione tra a e b è uguale all'unione dei complementari perciò questa scrittura a intersezione b con il primo indica il complementare di a intersezione b rispetto ad e la seconda possiamo scriverla invece in questo modo il complementare dell'unione è uguale all'intersezione dei complementari anche in questo caso come abbiamo visto in precedenza con altre proprietà basta scambiare intersezione con unione e otteniamo le due leggi come sopra il complementare dell'unione è questo bene possiamo iniziare una dimostrazione partiamo dalla a e per dimostrare l'uguaglianza nuovamente partiamo con la doppia inclusione iniziando da un verso e poi con il successivo x appartiene al complementare dell'intersezione dei due insiemi cioè vuol dire che x appartiene ad e e non appartiene all'intersezione questo vuol dire il complementare dell'intersezione ci sono due possibilità se non appartiene all'intersezione vuol dire che non appartiene ad a oppure non appartiene a b cioè scriviamo che x non appartiene all'intersezione lo suddividiamo in x appartiene ad e e x non appartiene ad a e in x appartiene ad e ma non appartiene a b così facendo questo vuol dire per definizione che x appartiene al complementare di a e questo qua sotto vuol dire che x appartiene al complementare di b ricordiamo che a e b come ho scritto qua su sono sotto insiemi di e perciò uniamo queste due informazioni e otteniamo che x appartiene all'unione tra a primo e b primo cioè tra i complementari unione perché x che non appartiene all'intersezione di a e b vuol dire che o non appartiene ad a o non appartiene a b o non appartiene a nessuno dei due quindi facciamo i due casi e otteniamo questo risultato perfetto abbiamo dimostrato l'inclusione in un verso andiamo a dimostrare l'inclusione nell'altro verso cioè questa partiamo questa volta dal secondo membro ovvero x appartiene all'unione dei complementari x appartiene ad a complementare oppure x appartiene al complementare di b cioè utilizzando la definizione di complementare x appartiene ad e e non appartiene ad a o x appartiene ad e ma non appartiene a b ma allora in ogni caso abbiamo che x appartiene ad e ed è quanto riportato qui contemporaneamente x non appartiene ad a o non appartiene a b questo vuol dire che x appartiene ad e e contemporaneamente non appartiene all'intersezione di a con b cioè abbiamo dimostrato che l'unione dei complementari di a e b è incluso nel complementare dell'intersezione perché questo x appartiene ad e e non appartiene all'intersezione di a con b vuol proprio dire che x appartiene al complementare dell'intersezione perciò grazie alla doppia inclusione abbiamo dimostrato la quindi la prima delle due uguaglianze dimostriamo la seconda un po più velocemente e consideriamo che se x appartiene al complementare dell'unione vuol dire che x appartiene a e e contemporaneamente x non appartiene all'unione di a con b è quanto scritto in questo primo membro cosa possiamo dire che x appartiene ad e e contemporaneamente x non appartiene ad a e x non appartiene a b chiaro se non appartiene all'unione non può appartenere a nessuno dei due cioè questo vuol dire che x appartiene ad e e x non appartiene ad a x appartiene ad e e x non appartiene a b allora questo vuol dire che x appartiene al complementare di a che quanto indicato qui è contemporaneamente al complementare di b che vuol dire x appartiene ad a primo intersecato b primo io ho percorso la strada quindi da sinistra verso destra posso andare a vedere per fare prima se io partendo da qui ottengo la stessa cosa x che appartiene all'intersezione dei complementari vuol proprio dire che contemporaneamente x appartiene al complementare di a e contemporaneamente al complementare di b cioè che x appartiene ad e e x non appartiene ad a e contemporaneamente x appartiene ad e e x non appartiene a b quindi la doppia freccia ci sta ma questo posso scriverlo come x che appartiene ad e e contemporaneamente x non appartiene ad a e non appartiene a b quindi anche questa è verificata e infine questa scrittura vuol proprio dire che x appartiene ad e e contemporaneamente x non appartiene all'unione di a con b e allora ho dimostrato in entrambi i versi e posso concludere che anche questa proprietà è dimostrata vediamo ancora altre proprietà che vanno sotto il nome di idempotenza ovvero a unito a uguale ad a a intersecato a analogamente uguale ad a a meno a è uguale all'insieme vuoto è come se fosse non so numericamente a meno a uguale a zero e stessa cosa per la differenza simmetrica abbiamo questo risultato una considerazione interessante a meno b tutto meno c possiamo scriverlo come a meno b unione c in particolare se c uguale a b cioè se abbiamo a meno b meno b possiamo scrivere che è uguale a meno b queste non le dimostriamo ora facciamo questa considerazione perché voglio introdurre poi rapidamente le famiglie d'insiemi il ricoprimento la partizione indichiamo così un numero naturale n indichiamo in questo modo con a pedice n l'insieme dato da numeri naturali a tali che a più n è un numero primo in pratica n è un parametro ok quindi è un numero naturale questo vuol dire che se io scrivo a zero avrò che sono i numeri naturali a tali che a più zero è primo cioè è l'insieme dei numeri primi a più zero uguale ad a quindi sono tutti i numeri primi poi posso scrivere ad esempio a due scrive nello stesso modo quindi il pedice diventa il parametro qui a più due è primo e chi sono questi numeri ad esempio lo zero ci sta zero più due fa due che è un numero primo l'uno ci sta uno più due fa tre che è un numero primo il due non ci sta perché due più due fa quattro che non è un numero primo ci sta il tre ci sta il cinque poi non ci sta il sei non ci sta il sette non ci sta l'otto ci sta il nove perché nove più due fa undici che è primo eccetera eccetera a cosa mi serve tutto ciò per introdurre questo concetto dell'insieme con un determinato pedice parliamo di famiglie di insiemi gli insiemi i cui elementi sono a loro volta insiemi sono detti famiglie di insiemi e possiamo scrivere ad esempio con molta fantasia f uguale a n dove n appartiene a un particolare insieme che è l'insieme degli indici che possiamo definire come vogliamo qui possiamo scrivere per esempio 1 2 3 n quanto abbiamo visto per quanto riguarda le operazioni sugli insiemi ovvero intersezione unione si possono estendere anche alle famiglie di insiemi e quindi noi possiamo scrivere questa cosa qua l'intersezione di tutta una serie di insiemi a n è uguale agli x che appartengono a questi a n per ogni n che appartiene ad i mentre analogamente possiamo scrivere l'unione in questo modo perciò in analogia con quanto scritto x appartiene ad a n e qui ci basta scrivere per qualche n appartenente ad i è un'unione quindi possiamo anche scrivere x tale che esiste almeno un indice i per cui x appartiene ad a i e vediamo un esempio per chiarire un po' la questione supponiamo di avere a n che è l'insieme degli x naturali tali che x è diverso da n insieme i questa volta lo poniamo uguale all'insieme dei numeri naturali cioè abbiamo a 0 naturali tali per cui x è diverso da 0 questo tipo di insieme è l'insieme dei numeri naturali privati dello 0 che possiamo chiamare n star a 1 a 1 sarà l'insieme degli x naturali tali che x è diverso da 1 beh possiamo scriverlo come l'insieme dei numeri naturali a cui è stato tolto il numero 1 e eccetera eccetera parliamo di ricoprimento e diciamo che se prendiamo un insieme i non vuoto e prendiamo f una famiglia di sotto insiemi di i f ricoprimento di i se l'unione di tutti gli ai è uguale all'insieme i insieme padre diciamo così possiamo poi dare un'altra definizione ovvero che un ricoprimento diventa partizione se si verifica che due cose sarebbero tre ma la prima è già inclusa nel fatto che questo è un ricoprimento quindi una delle condizioni è che l'unione ci dà tutto l'insieme da cui sono stati estratti sotto insiemi le altre due condizioni sono che i suoi elementi sono a due a due disgiunti ovvero prendiamo ai intersecato a j è uguale all'insieme vuoto per ogni i e j ovviamente con i diverso da j e infine che tutti i suoi elementi sono diversi dal vuoto cioè gli ai sono diversi dall'insieme vuoto e questo vale per ogni i facciamo un esempio di partizione in questo esempio abbiamo questa scrittura un po articolata che vuol dire che preso un numero n naturale esiste un unico numero naturale che qui chiamiamo rn e poi vediamo il perché tale che esiste un unico qn appartenente ai numeri naturali per cui si ha questa relazione che n è uguale a 3 per qn più rn qn è il quoziente r è il resto cioè stiamo parlando della divisione per 3 con resto quella che si studia alle scuole elementari la divisione con resto se prendiamo degli indici all'interno dell'insieme costituito dai numeri 0 1 e 2 possiamo definire questo oggetto che si chiama classe classe di i come quel numero naturale tale per cui rn uguale a i cioè abbiamo che l'insieme dei numeri naturali può essere partizionato nelle classi di 0 di 1 e di 2 perché se io prendo qualunque numero e lo divido per 3 otterrò come resto della divisione o 0 o 1 o 2 non ho altre possibilità questa è la classe di 0 questa è la classe di 1 questa è la classe di 2 torneremo su questo concetto perché dovremo parlare di classi di equivalenza di insieme quoziente di classi di resto ma questo esempio mi serve solo per far vedere che cosa succede se noi prendiamo in generale un determinato insieme che noi lo possiamo partizionare quindi in questo caso se questo è l'insieme dei numeri naturali è un insieme che ha infiniti elementi può essere partizionato in tutti quei numeri che divisi per 3 mi danno come resto 0 in tutti quei numeri che divisi per 3 mi danno resto 1 e tutti quei numeri che divisi per 3 mi danno come resto 2 ho partizionato l'insieme dei numeri naturali in generale prendendo un insieme a io posso realizzare un certo numero di partizioni a 1 a 2 a 3 a 4 a 5 per esempio posso scrivere però che a è uguale all'unione di tutte queste singole partizioni questo lo abbiamo definito ricoprimento e inoltre per ogni i e j abbiamo che ai intersecato a j è uguale al vuoto cioè le varie partizioni sono a 2 a 2 disgiunte e infine ogni partizione vediamo che è diversa dal vuoto ogni partizione contiene almeno un elemento qui non si vede ma lo assumiamo quando si verificano queste tre condizioni parliamo di partizione di un insieme torneremo su questi concetti quando affronteremo le relazioni di equivalenza in chiusura di questo video vorrei parlare dell'unione disgiunta questa operazione replica gli eventuali elementi identici che compaiono nei diversi insiemi possiamo indicare in questo modo oppure anche in quest'altro modo o a volte anche in questo modo come definiamo quest'unione disgiunta possiamo scrivere come a cartesiano 0 unito b cartesiano 1 attenzione 0 e 1 sono degli indicatori facciamo un esempio prendiamo a insieme dato da 1 2 3 e prendiamo b dato da ad esempio 2 3 4 cos'è l'unione disgiunta a b è dato da 1 a 2 a 3 a 2 b 3 b 4 b cosa vuol dire vuol dire che l'elemento 1 sta nell'insieme a l'elemento 2 io ce l'ho sia nell'insieme a che nell'insieme b dal punto vista degli insiemi se io scrivessi la semplice unione a unito b dovrei scrivere 1 2 3 4 dove l'elemento 2 è presente sia in a che in b io qui voglio indicare che 2a è il 2 presente nell'insieme a mentre il 2b è il 2 presente nell'insieme b così come il 3 che è presente in entrambi gli insiemi in questo modo indico che questo è il 3 che è presente nell'insieme a e questo è il 3 presente nell'insieme b 4 è presente solo in b e lo indico in questo modo questo appunto consente di specificare all'interno di un insieme quando ci sono degli elementi ripetuti se a e b sono disgiunti quindi se noi abbiamo una situazione in cui qui ad esempio abbiamo 1 2 3 e qui abbiamo solo 4 quindi sono due insiemi disgiunti allora l'unione disgiunta è uguale all'unione normale siamo arrivati alla fine di questo video e spero vi sia stato utile vi saluto vi ringrazio vi do appuntamento al prossimo video ciao